Tocca a andare a vedere, potremmo andarci pure domani. Noi siamo qua a 100 km per andare a vedere le peonie. Allora fa che le peonie vengono da te. Tutti a peonie, tutti a peonie. No, è quello solo per andare a vedere le peonie. La natura prende il sopravvento. Ed ecco uno a Palmira, segue cazzo pendente, il lamo si chiamava? Bisello odoroso. Che sta a fotografare? C'era un arancio bellissimo, a me piace il colore. Ah, arancio, il colore, no? L'arancio che si mangia. L'arancio. C'è l'entrata da qualche parte sicuramente. Vedi come è lavorato lì il... Sicuramente questo è un tumulo, da qualche parte c'è sta l'entrata. C'è sta l'entrata, la sepoltura è sotto. Sì, siamo negli inferi. Forse era un cunicolo dell'acqua. Eccolo là, vedi? Questa è una tonda, deve essere una tonda rotonda. E lì mi dava tutta quanta. Ce ne so tre, uno, due, pure questa e quella là sotto. Si chiamano Cipiera, vedi faccio che so qua era un... Cipiera, che vuol dire Cipiera? Che c'era Piera che piaceva la C, perché da lì mi sono l'alfabeto, no? C'era già Gito, A. Eh, c'è Cipiera ragazzi. Si è a tre posti. A tre posti, eh... Fa il Passo Nielo e va a lunga come ho insommato. La sua alta. Ah, San Marco. Siamo nella Via degli Inferi. Che c'è scritto? Mettete là, Ferrando, te ci faccio la foto vicino, vai. Qualcosa ti inferi. Qualcosa. Più scendo. I zanzari che si stanno maniando, no? Queste sono stupendo queste colonne. Bello, vero? Tomba delle colonne doriche. Tomba delle colonne doriche. Quarto secolo avanti Cristo. Bello che sono. Queste non mi piace, le sono lavorate. Come si faccia una foto, aspetta. Guarda che roba, oh. Bella, guarda altre belle qui, come è tutta assondata qua. Queste sono rimesse, però, vedi? La Via degli Inferi. La Via degli Inferi 2 è tricolata con il raghetto. Quale? La Via degli Inferi 2 è tricolata con il raggio di un 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 raggio. La necropoli del laghetto questa è. Ecco Palmira che sta nelle parti alte delle tombe. Eccoci qui alla necropoli del laghetto. Detta così per le vie dei famosi, dei tanti laghetti che si sono formati solo per quello, perché se no non capisco. Forse il laghetto perché qui sotto una volta c'era un laghetto. Oppure perché qui sotto qui, sotto sto strapiombetto, era un acquisito, c'era forse un laghetto. Una volta c'era... Chi vuole la foto qua sotto sullo spicolone? Dove? Sì, siamo alla banditaccia. Qui i vecchi banditi, che erano quelli cattivi, sei un banditaccio. Ce la chiamavano la banditaccia. Perché c'erano le donne qui, non c'erano i banditi, le bandite. Le bandite, le piratesse. Le bandite c'erano. Le assassine. Siamo alla banditaccia. Alla necropoli della banditaccia. 8 euro. Ecco per me la tomba rola, detta la tomba rola. Entriamo dentro la tomba. Guarda che carina. Una con la poltroncina. Non vedi la poltrona. Nella chiesa, dicevo. Questa però non la vedo di rezza. Necropoli di Barbarano, sei buonanotte. Come si chiama questa? Dei cervetri. No, di cosa? A banditaccia. Che cervetri banditaccia? Erano forzuti sti cazzo antichi. Guarda che scalini arti. Eppure erano arti in metro e venti. Erano arti in metro e venti. Voi tornate giù. E' già morì a quest'ora? Ma meno male che è tutto nuvoloso. Ah, vai. Ah, va. Grazie.